Ricevere un riconoscimento per l'operato e per l'attività che cerchiamo sempre di sviluppare anche attraverso la partnership con altri studi è una cosa che ci premia notevolmente e ci fa un grandissimo piacere. Questa conta è il network tra i professionisti in una serata come i Top Legal Awards? Beh è fondamentale perché incontrare qui tanti colleghi che con diverse esperienze approcciano un mercato così complesso è un momento di arricchimento reciproco per le rispettive esperienze.